Dal 1 ottobre è iniziato questo triennio che mi vedrà alla direzione del Dipartimento di Agraria. È mia volontà rispettare tutto ciò che ho detto e scritto nel mio programma elettorale, se così lo vogliamo chiamare. E sicuramente la parola prevalente è territorio. Con il territorio dobbiamo interagire primariamente con i nostri corsi di studio che vedono impegnati tutti i docenti del Dipartimento nei tre assi fondamentali di formazione. Scienze e tecnologie agrarie, scienze e tecnologie alimentari, scienze forestali ed ambientali, sia di primo che di secondo livello. E da questo punto di vista ho appreso con molto piacere l'estensione del periodo di iscrizione senza pagamento di mora fino al 18 di ottobre prossimo venturo. Questo potrebbe permettere a molti ragazzi che magari sono ancora indecisi sul loro futuro accademico anche di scegliere un corso di studio del nostro Dipartimento. Il nostro Dipartimento che vanta una competenza nei tre settori molto ormai acclarata anche a livello nazionale da l'innumerevole numero di progetti, di pubblicazioni scientifiche e di risultati riconosciuti dalla comunità scientifica nazionale ed internazionale nei tre macroambiti di cui ho detto in precedenza. Le scienze e tecnologie agrarie, le scienze e tecnologie alimentari e le scienze forestali ed ambientali. Il collegamento col territorio ovviamente si dovrà poi estrinsecare anche attraverso le ricadute occupazionali di questi ragazzi e le interazioni che i gruppi di ricerca stanno immettendo nello sviluppo della Regione Calabria. Questo anche grazie alle tesi di laurea. Mi verrebbe da fare degli esempi che mi vedono coinvolto non come direttore ma come docente e ricercatore di questo Dipartimento e sono innumerevoli in cui illustro al territorio i risultati che derivano anche dalle tesi di laurea prodotte dal lavoro di tesi di laurea prodotto da questi ragazzi. Mi auguro quindi che continuiamo ad avere dei ragazzi che frequentino il nostro Dipartimento e che all'altezza, con la voglia di fare e che un domani li possa immettere nel mondo lavorativo regionale e perché no anche extra regionale come già avviene di loro competenza raggiungendo dei risultati ottimi.